Il totale dei fondi tagliati al progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara ammonta 1 miliardo e 465 milioni di euro in meno di due mesi, a causa di una serie di tagli obbligati dal governo Meloni per i buchi nella procedura di realizzazione dell'opera. E che il governo sia comunque lavoro per il completamento dell'infrastruttura e il reperimento di altri fondi, come annunciato soltanto qualche giorno fa dal viceministro Bignami ad Avezzano e ribadito anche oggi, non può essere sufficiente a compensare il danno subito dall'Abruzzo e dagli abruzzesi per la balbuzie della regione guidata da Marsilio. Arriba dirlo è l'onorevole del PD Luciano D'Alfonso, che sottolinea la gravità della perdita di ingenti risorse destinate all'Abruzzo e stralciate dal PNRR su disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché ora, per completare l'opera, bisognerà attingere ai fondi di coesione e sviluppo che invece la regione avrebbe potuto usare per altro. Il presidente Conte, il presidente Draghi e il presidente Meloni sono parte lesa di questa assurda procedura che non ha visto un grammo di supporto da parte di regione Abruzzo. I buchi nel procedimento dovevano trovare aiuto da parte della regione per fare in modo che il tracciato venisse condiviso con le popolazioni, per non perdere tempo, per utilizzare fino in fondo le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione che assegna alle regioni, in questo caso la regione Abruzzo, la scelta del tracciato condiviso. Invece il presidente in scadenza Marsilio si è limitato a organizzare a intermittenza delle conferenze stampa, assumendo degli impegni a scomparsa. Ad oggi il fatto concreto è che abbiamo perso 1 miliardo 465 milioni di euro del PNRR. Non doveva accadere questo ed è un modo di dire che è irrilevante poiché troveremo la copertura nei fondi FSC. Quei fondi FSC del salvadanaio Fondo Sviluppo e Coesione ci servivano peraltro per aiutare le nostre città, i nostri territori, le nostre imprese. La velocizzazione ferroviaria voluta dal 2017 dal Del Rio e poi ribadita con chiarezza da Conte, il quale ha anche fatto in modo che diventasse opera straordinaria. La regione Abruzzo non ci ha messo una nota e oggi organizza una condotta da Vanna Marchi con conferenze ad Avezzano, conferenze a San Giovanni Tiatino dove ci si dice che l'interramento è una prospettiva possibile. Evitiamo di mettere in imbarazzo gli ingegneri di RFI che hanno dovuto sentire questo sciocchezzare, si cominciassi a lavorare per fare in modo che i territori siano d'accordo, che le procedure siano adattive, adeguate rispetto all'obiettivo importante a raggiungere ed evitiamo di distruggere, di incendiare 1 miliardo 465 milioni di euro che naturalmente facevano bene all'Abruzzo.